Sono in scadenza le domande per partecipare ai cantieri di lavoro? C'è tempo fino al 31 gennaio per produrre le nuove domande, quindi bisogna affertarsi in questi giorni, visto l'imminente della scadenza. La gradatore entra in vigore il primo di maggio, quella vecchia dell'anno scorso, anno 2010, e scadrà il 30 di aprile. Chi deve fare le domande? Tutti i lavoratori disoccupati al 31 dicembre dell'anno scorso, 2010, che hanno già prodotto, anche se hanno già prodotto la domanda anche l'anno scorso, devono di nuovo ripresentarla, se non rimangono fuori dalla nuova gradatoria. Esattamente come è l'ITER, si vende all'ufficio di collocamento per prelevare un modello e quindi? Si compila e si porta al centro per l'impiego di Agrigento, contrata a Fontanelle. Viene direttamente inserito nel computer, quindi non ci può essere possibilità che manca la domanda, perché già viene inserito automaticamente. L'anno scorso eravamo circa 1100 domande, quest'anno siamo fermi a 160, quindi faccio appello ad affrettarsi a presentare la domanda. Specialmente chi pensa che già era inserito l'anno scorso e non deve produrre quest'anno, deve rifarla di nuovo, se no non va nella nuova gradatoria. Da che ora a che ora e in quale giornate l'ufficio di collocamento a Favara è aperto? Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle ore 9.30 fino ai 12.30, solo mattina. Apreicytate Apreicytate